Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Ubriato investe un ragazzo in scooter e scappa, ha arrestato un 35enne fanese Mercoledì l'ultimo saluto al piccolo Chris, il bimbo morto in un incidente in superstrada Cazzatori con i cani al parco, protesta del comitato Bartolaggio che annulla la tradizionale festa del 2 giugno Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Si svolgeranno domani pomeriggio nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Fossombrone I funerali del piccolo Chris Il bimbo di tre anni che domenica ha perso la vita in un tragico tamponamento lungo la superstrada E78 all'altezza di Sant'Ippolito Il corteo funebre partirà alle 15 dall'obitorio dell'ospedale Su questo tragico episodio è intervenuto il parroco di Tavernelle e Serrungarina Don Pier Giorgio Sanchioni Con un post pubblicato su suo profilo Facebook Non è il tempo di chiederci tutti, amministratori e cittadini della vallata del Metauro Ha scritto sacerdote, come trovare vie alternative, specialmente per i pedoni ciclisti Se si avessero più coraggio e unità una soluzione potrebbe essere quella di ripristinare la vecchia ferrovia Per farne una strada alternativa di emergenza e una pista pedonale Pensiamo al dolore di questa famiglia, ha proseguito e a quanti incidenti sono accaduti in questi ultimi anni Lungo la vecchia consolare Flaminia È un'urgenza, ha concluso Don Pier Giorgio, trovare una soluzione E ve lo dice un parroco che in questa bella vallata ci vive e vede ogni giorno questi problemi partendo da Fano a Fossombrone E ancora cronaca, i carabinieri hanno arrestato un 35enne fanese che ha investito un giovane scooter e poi è scappato Il perata della strada però è stato rintracciato grazie alla testimonianza di due donne Investe con l'auto un 17enne a bordo di uno scooter e poi si dà alla fuga È successo poco prima della mezzanotte in via Galileo Galilei a Fano Due ragazzi moldave, testimoni dell'incidente, hanno chiamato il 112 dando indicazioni esatte sulla dinamica E fornendo il numero di targa del fuggitivo Nel frattempo il giovane ferito è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso del Santa Croce Partite le ricerche, i carabinieri hanno raggiunto l'abitazione del proprietario della vettura E sotto casa c'era parcheggiata proprio l'auto incidentata Aveva delle ammaccature al paraurti e la targa parzialmente staccata I militari poi hanno suonato il campanello e dopo innumerevoli tentativi L'uomo ha aperto la porta insultando i carabinieri Era fuori controllo per abuso di alcol Si tratta di un 35enne di Sant'Orso Già sorpreso in passato alla guida sotto effetto di droga o in stato di ebrezza E con pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per violenza e resistenza pubblico ufficiale Nonché deferito in stato di libertà per guida sotto effetto dell'alcol e omissioni di soccorso Il giudice ha convalidato l'arresto e rimesso in libertà al 35enne in attesa del processo D'altra parte il padre del giovane di 17 anni ha ringraziato le due moldave Che dopo aver soccorso ed assistito il figlio fino all'arrivo dell'ambulanza Hanno fornito preziose indicazioni dando un contributo fondamentale per individuare il colpevole Il comitato Bartolaggi ha annullato la festa del parco per protestare contro la decisione del comune di Fano Che ha deciso di concedere un'ampia zona del campo di aviazione alle associazioni venatorie Annullata dal comitato Bartolaggi la festa per il parco L'evento che come da tradizione si tiene ogni 2 giugno ma che quest'anno non si farà La decisione è stata presa con rammarico ma è una forma di protesta contro una delibera della giunta fanese Che autorizza fino al 31 agosto prossimo l'addestramento dei cani da caccia su 21 ettari del futuro parco urbano E il campo d'aviazione Questo atto voluto dall'assessore al patrimonio Carla Cecchetelli è stato approvato dalla giunta E a nulla sono servite le contestazioni dell'associazione ambientalista e animalista Il 17 maggio spiega Annottonelli del comitato Bartolaggi Siamo stati convocati da Cecchetelli che ha ribadito la sua ferma volontà di favorire nell'utilizzo dell'aria Solo le associazioni venatorie escludendo tutte le altre L'assessore d'altra parte precisa che questa zona sarà attrezzata anche per la sgambatura di tutti gli amici a quattro zampe E non solo per i cani dei cacciatori Tale scelta inoltre è stata fatta perché il soggetto assegnatario dovrà provvedere allo sfalcio dell'erba E alla corretta manutenzione dell'aria senza alcun onere per l'amministrazione comunale Le ragioni per cui hanno annullato la festa sinceramente non comprendono Perché la cosa si poteva coniugare benissimo perché la zona lungo via Papiria Quindi la zona diametralmente opposta dove si svolge la festa del parco Quindi non vedo, è una zona che può essere adibita a questa zona di addestramento cani Quindi non vedo i motivi dell'annullamento Due situazioni che possono combaciare e quindi secondo lei come mai hanno deciso di non... Forse un segno di protesta? Un segno di protesta oppure sono questioni ideologiche che io rispetto per carità Il comitato Bartolaggi però è deciso e continua a chiedere di ritirare la delibera Sperando di vedere al più presto la realizzazione del parco pubblico Obiettivo d'altronde che il comune di Fano vuole perseguire Questa cosa ci ha molto preoccupato 21 ettari su 33 Tolte le parti occupate dal Gattile Le parti occupate dall'Aeroclub Le parti occupate dalla casa del Custove Praticamente rimane un fassoletto di terra a disposizione della città La cosa che noi chiedevamo è che in questa zona venisse messo un biglietto di caccia Altro che una concessione ai cazzatori Noi non abbiamo niente contro i cazzatori Io sono figlia, nipote, cugina di gente che va a caccia Ma in realtà è una delibera che dice Ci sarà questa scadenza del Cretunotto in questa concessione È però precisa salvo eventuale rinnovo E se viene rinnovata questa concessione viene data dal primo di febbraio al 31 agosto Quella è una zona naturalista È l'unica zona che è rimasta così vicino alla città incontaminata Ed è incompatibile con l'attività, ogni tipo di attività di caccia Quindi il vostro è un segno di protesta È un segno di protesta Ma non perché non abbiamo lo spazio per fare la festa Perché questo veramente, non lo so come definirlo Se è una provocazione Se sembra solo stupidità E adesso guardate questo video che ha realizzato il nostro reporter di strada a Sassonia di Fano Questo ci ha scritto il telespettatore Ciò che avviene dopo appena 5 minuti di pioggia nella spiaggia di Sassonia Lo scommatore riversa in mare un fiume di melmaniera e l'odore fortissimo è quello degli escrementi Quando avranno terminato di chiudere tutta la spiaggia con le scogliere, sostiene segnalatore Questi liquami fognari non avranno più accesso al mare aperto e rimarranno stagnanti in spiaggia Magari si depositeranno dopo qualche giorno e non saranno più visibili Ma saranno sempre lì dove facciamo il bagno noi e i nostri figli Una cosa, prosegue, è sollevare le scogliere davanti a Viale Ruggeri per proteggere la strada e le abitazioni Un'altra sono le scogliere dannose fino al porto a chiusura di tutta la spiaggia Sono queste che dobbiamo fermare e sostiene Se qualcuno dovesse parlare di erosione, conclude il reporter Controllate e confrontate le foto di qualche anno fa e di quest'anno Vi accorgerete che la spiaggia sta avanzando e non retrocedendo Per dovere di cronaca però vi dobbiamo dire che Aset Spa ha già programmato degli interventi Appunto per risolvere questo problema e quindi a settembre porterà gli scolmatori a mare Cioè dopo le scogliere Procediamo con il nostro telegiornale e cambiamo argomento Dopo i lavori di restauro finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano Nel centro storico è stato inaugurato Palazzo Bracci Pagani Alla sua interna una mostra prestigiosa dell'artista Giuliano Vangi Servizio di Lino Balestra Taglio del nastro sabato scorso a Palazzo Bracci Pagani Dopo quattro anni di lavori di strutturazione per riportarlo a nuova vita Ed un costo di un milione di euro sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano Un edificio in pieno centro carico di storia che dopo vari utilizzi ora vede le sue sale adibite a sistema museale Rispettando in qualche modo così la volontà testamentaria della Contessa Diana Bracci Un bel momento per la città, per voi che avete così voluto fortemente questo restauro È un momento di gioia che mi ripaga anche di tante amarezze Quindi davvero oggi sono molto lieto perché siamo riusciti finalmente Dopo un intervento di restauro lungo e importante a restituire questo palazzo alla città Questo palazzo con tutte le varie funzioni che ha all'interno di diverso genere Ma tutti di livello culturale elevato sarà messo da oggi a disposizione della città Gli ambienti rinnovati a disposizione della cittadinanza ospitano ora in maniera permanente Una biblioteca con oltre 15.000 volumi di storia dell'arte donati dalla famiglia Boiani Ed un museo di scienze naturali all'ultimo piano con importanti reperti minerali e fossili Ed una saletta per rendere omaggio al talento istrionico dell'attore fanese Ruggero Ruggeri E due ambienti dedicati a mostre d'arte L'interrato, destinato a forme di creatività meno titolate, è la Diana Art Gallery al Piano Nobile Dove per questa inaugurazione sono in esposizione fino al 21 agosto 25 opere tra statue e bozzetti del maestro Vangi Presente al taglio del nastro come il critico d'arte Filippo D'Averio Vangi, che linguaggio parla? Il linguaggio suo è molto particolare perché è proprio italianissimo Lui non parla con la testa, parla con le viscere Cioè quello che lui esprime è una sorta di virulenza profonda di base Che è l'opposto di quello che si considera talvolta il bello Il bello è una cosa difficile a definire, poi ognuno ha la sua idea del bello Però l'espressività no Cioè la grinta è una cosa sulla quale ci si trova molto più facilmente d'accordo E lui fa quel mestiere lì, poi lo fa con un'abilità straordinaria Lavorando i materiali con un'energia, in un qualche modo quasi da samurai Perché questi blocchi di marmo, questo rapporto anche del gestire metalli Con le pietre preziose, con i marmi, è straordinario E 350 studenti hanno partecipato a Vitruvio Docet L'iniziativa organizzata dal Centro Studi Vitruviani Per diffondere fra i giovani appunto la conoscenza della cultura classica Imparare la cultura classica giocando, studiando e andando a teatro Tutto questo è possibile grazie ad una collaborazione nata Fra il Centro Studi Vitruviani e le scuole fanisi Per una nuova esperienza didattica Tra le varie iniziative ha riscosso un grande successo Il progetto denominato Vitruvio Docet Con dei laboratori ludico-didattici I ragazzi hanno imparato a conoscere Vitruvio, il primo libro del De Architettura Cominciando a guardare con occhi diversi le bellezze della città Dalla quinta elementare alla terza media sono stati coinvolti circa 350 studenti 11 insegnanti e tre istituti La Padalino, la Corridoni e la Gandiglio Per un totale di 74 ore di laboratori Vogliamo raccontare ai giovani la memoria identitaria di questa città Basata su Vitruvio ma basata sulla sua storia, sulle sue tradizioni E farlo in un modo nuovo giocando Giocando, facendo teatro, sviluppando C'è proprio le loro capacità espressive Crediamo che questa sia una strada importante per lavorare con le scuole Per creare gli adulti di domani Vitruvio è anche uno dei temi affrontati nell'ambito di fuoriclasse Il festival che dal 25 al 27 maggio Vede gli studenti calcare il palcoscenico del Teatro della Fortuna E affrontare argomenti universali I ragazzi della Padalino, ad esempio Giovedì sera porteranno in scena uno spettacolo dal titolo Vitruvio Chi Avvicinarsi alla figura di Vitruvio attraverso l'atto teatrale È un modo per giocare con i materiali E quindi digerire completamente la lezione in qualche modo Quelli che sono i contenuti che si possono trasmettere attraverso un racconto teatrale Il tutto avviene chiaramente con il linguaggio dei ragazzi Quindi molto dinamico, molto vivace Che toglie un pochino di paludato dal progetto I ragazzi del liceo scientifico Torelli invece hanno elaborato delle schede Sull'arco d'Augusto, le mura, la basilica di Vitruvio E il teatro romano con l'obiettivo di realizzare un poster E presentarlo durante un convegno organizzato dal centro studi il prossimo 23 giugno L'iniziativa è stata curata da Laura Bertuccioli e Daniela Madei Che hanno coinvolto i giovani anche in una caccia al tesoro nelle vie della città E mettendole alla prova con rebus e quiz di fronte ai monumenti Un modo divertente per diffondere la conoscenza della cultura Alla fine del progetto formativo i ragazzi verranno valutati dal tutor aziendale dell'ente Con la collaborazione dei tutor scolastici È un portfoglio che i ragazzi si presenteranno alla fine del quinquennio E questo curriculum diciamo sarà appunto considerato e valutato dalla commissione dell'esame di Stato E domani a Loreto si terrà il giubileo dei consacrati e religiosi anziani e infermi L'iniziativa che è stata organizzata dall'Unitalsi è inserita negli aventi dell'anno santo della misericordia Voluto da Papa Francesco Mercoledì è una giornata molto importante per l'Unitalsi Fano E anche per i sacerdoti, le religiose e i religiosi della diocesi Perché l'Unitalsi regionale ha organizzato il giubileo a Loreto E da Fano siamo una cinquantina di persone Fra suore, frati e sacerdoti che partecipano Oltre ai volontari dell'Unitalsi che li accompagnano Sarà una giornata molto piena Perché arrivati a Loreto ci attende la conferenza episcopale marchigiana Il Cardinal Menichelli Faremo il passaggio nella Porta Santa E poi il passaggio dentro la Santa Casa Quindi ci sarà la messa celebrata da tutti i vescovi presenti Anche da tutti i sacerdoti E poi andremo a pranzo tutti assieme al Palazzo Apostolico Nel pomeriggio il Rosario è meditato Con le meditazioni di Monsignor Trasarti Il nostro vescovo che è anche delegato per la pastorale della salute C'è ancora qualche posto disponibile? Abbiamo tre o quattro posti disponibili Se qualcuno vuole partecipare Bisogna che decide subito E domattina si presenta alle 8.30 Al parcheggio di Viale della Giustizia Magari se ci chiama prima per avere la conferma Della disponibilità dei posti E terminata la fiera agricola Il Codma di Rosciano Fanoge oggi si è spostata nei campi Dove è stato possibile vedere e toccare con mano Il vero lavoro della terra Infatti alle ore 15 hanno preso il via Le giornate del Grano 2016 Con una visita in campo varietale Composto da grano duro, grano tenero e orzo Per un totale di 31 varietà Su un terreno coltivato dalla cooperativa Falcineto L'iniziativa è stata organizzata dal Consorzio Agrario Adriatico Giovedì invece, sempre alle ore 15 Partiranno le prove di aratura, raffinatura e semina Dove sarà possibile vedere nel campo del Falcineto Park Una dimostrazione pratica di mezzi agricoli Di ultimissima generazione E adesso chiudiamo il nostro telegiornale Con una notizia di sport E parliamo di frisbee Perché le mirine di Fano Hanno vinto il campionato italiano femminile Le finali si sono disputate Allo scorso fine settimana Sui campi di Cremona Dove la squadra fanese Ha segnato la meta del 12 a 11 Che le ha proclamate campionesse Le ragazze hanno ottenuto risultato Mai visto prima nella storia della società Inoltre hanno vinto il primo posto nello spirito del gioco Un riconoscimento assegnato Con la votazione di tutte le squadre femminili Per il gioco corretto L'autocontrollo L'atteggiamento positivo in campo E la buona comunicazione Complimenti a queste ragazze davvero Per l'informazione è tutto Grazie per la vostra attenzione Arrivederci a domani Grazie per la visione